Dada Digital Boom è un'offerta formativa straordinaria grazie appunto all'Officina d'Arte Contemporanea che ha uno spazio molto interessante all'interno del quartiere Varignano. Dada Digital Boom è praticamente quasi una scuola di video e di fotografia si va dalle cose base, dal capire come funziona l'inquadratura al montaggio, all'animazione, con diversi livelli quindi veramente sono una serie di corsi che possono essere fatti anche tutti se uno vuole parte dal primo, da quello base di fotografia, video eccetera eccetera fino ad arrivare al montaggio, alla computer grafica 2D e 3D. L'Officina di Arte Fotografica e Contemporanea Dada Boom si muove su scopi e terreni diversi. Il primo è l'aggregazione degli artisti e delle artiste e dunque lo sviluppo culturale del proprio. L'Officina d'Arte Contemporanea quindi sviluppa nuovi linguaggi contemporanei fa dei percorsi interessanti di approfondimento sulla videoarte e quindi per noi dell'Arci che abbiamo sempre stimolato percorsi legati ai nuovi artisti diventa come dire fattore importante. Il secondo è la diffusione culturale attraverso eventi, mostri che abbiamo sempre fatto a titolo gratuito. È veramente una caratteristica unica secondo me nel panorama del nostro territorio avere a disposizione questa serie di corsi tra cui si può scegliere anche magari di farne uno o due e acquistare delle competenze che possono essere utili sia per gli amatori, per chi piace fare videofotografia ma utili anche magari per dei professionisti che vogliono migliorare il proprio livello di qualità. È fattore importante anche perché le autoproduzioni dal basso cercano come dire di fare da paracadute rispetto alle crisi degli enti locali che non riescono a finanziare produzioni e protagonismi giovanili e creativi. E da oggi con il Dalla Digital Boom il terzo scopo dell'Officina che è la parte formativa. I corsi sono tutti fatti da professori e da persone che hanno già molta esperienza in questo campo e che si sono spesi per creare questo programma formativo che svolgiamo con prezzi popolari. E quindi la qualità della didattica è sicuramente garantita. Digital Data Boom, che devo dire di più. Ciao!